Siamo tu, respeto. No, non ho tolto i denti del giudizio. Mi hanno messo un impianto per... Gli hanno prendo il trappanino, gli hanno bucato fortissimo la gengiva... Che è peggio probabilmente. Un pugno nei denti. Però se faccio creare una classe mi torna sempre... Ah, perché la seleziono dopo, ok. Allora, adesso abbiamo qua, abbiamo... Non so perché ci siamo detto pubblica, classico e assalta. Assalta è quella a ordine infinite, perché non muori. Quindi no, direi. Ci hanno messo il subwoofer, sì. Certo, classico con... Quanti preventorieri... Un impianto stereo, sì sì. Adesso lui quando mangia sente il sapore... Da destra a sinistra. Ogni volta che... Ogni volta che mattico parte la darte. Non è che come funziona. Sono veramente grosso io. Allora... Ah, che una classe. Dove sono io? È vero. Guardiano? Ma io sono una donna, io mi vedo una donna. Guardiano? Io mi vedo una donna. Ma io sono nudo. Allora, seleziona la classe. Potete selezionarla adesso. Io prendo Tempesta. Io prendo Guardiano a sto punto. Eh, io prendo il Warlord, che è lui. Ma qual'era adesso? Potremmo essere il mio oggetto dietro. Il quarto è il Warlord. Ma chi sono io? Ma non me lo fa se... Fica... C'è... Un oggetto uguale no. Seleziona la classe. No, prendo questo. Prendo il martello di Thor prendo. Eh, prendo il Guardiano io, dai. Dai, faccio cosa? Il Maestro Miyagi. Miang, sì, quello del Milan. Il Maestro Miyagi. Ma che si fa a preparazione? Ma io non volevo fare la donna. Non si può cambiare. A preparazione devo cliccare. Ma io ti vedo vecchio. Eh, ma non lo so. Io vedo Mark vecchio. Sono io vecchio. No, io vedo il vecchio. E Mark... Non lo so. Io sono vecchio. E poi si è uncharted Mark. E poi dice Moro che la sigla. Ma sono io il protagonista. Non è vero, è Mark? Vabbè, a me va bene che sono il vecchio. E devo essere io effettivamente una Thumbrake. E infatti io... A parte che non è, è più simile a te che una Thumbrake. Io li vedo giusti, perché Moro è la donna. E da dei vecchi e Mark quello palestra. Eh, tu è giusti, ma io lo so. Ma tu sei quello giusto. Eh, però a lui li vediamo. Eh, il manestro, non so parlare. Eh, stai zitto. Oh, vediamo un po' come funzia sto... Marco, io prima mi sono affeso. Che dico lo che è figo. Come mai? Perché oggi devo fare queste due valli e invece non si facendo. È che me l'ha messo adesso, internet. È l'ultimo episodio. Me l'ha messo alle 10.50. Vedi, bastardi. Eh sì. Eh, che tremolio. Un po' di più vibro, dai. È il Titanic. A me sta caricando. Ma siamo nel Titanic. Questa è la mappa di COD. Cazzo, cazzo, cazzo. Ah, è il tuo cazzo! Eh, scusa, ero io. Ma sono io, ma io! Ma no, gli eserano. Ah, ok. Ah, è il zombie! Il volume di Spiderman. Aspetta. Il zombie! Forse è un altro scherzo della mia percezione. Il corpo a corpo, eh. Eh, com'è? Va bene? La B mi parla. La B. La B. Oh, finalmente posso giocare... Ma sembrano quelle di Balto. Inutile dire che... Ah, mission pompa, lo prendo io? Eh, non lo so, Marco, aspetta. Ah, questa è la magia. Magia nera! Questa è in azione rapida. Ah, merda! Amici, ho preso il pompa! Eh, ho cliccato uno dei numeri e mi ha dato un per... Uno di quelli di Lazio. Eh sì, quelli di dato. Mi costruisco la barriera. Mi sto parlando di vedere come funziona. Sposa più le zone qua, amorelli, con i punti. Molto bene. Sì, sì, ho visto anche sotto. Sì, questo. Sì, questo. Sono irrecoverabili. Eh, l'ho preso anch'io, eh. Grazie, Pier. Per non essere... Come regalati di Natale, farò la sub da due anni. Però adesso restiamo nella sub di due. Un iceberg! Ci siamo appena scontrati con un cazzo di... Ma questa non muore... Esprit! Esprit! Dove chi? Sei salvato. Bastardi. Grazie, Eda. Bastardo! Addie! Bastardo! Ehm... Aspetta che abbassano... Chi è i cimbecilli? Però finiti che devi usare le palmazze. I passeggeri sono mutabili! Eh, scusa, sono... È il Leather, comunque. È il Leather, comunque. Guarda te. Aspetta, devo abbassare un attimo l'audio, eh. Eh, anche io ho abbassato l'audio che abbassato l'audio. Eh, anche io l'ho messo a 40, tipo. È un po' troppo alto, senso... Eh, abbiamo una porta. Comunque la pistola fa veramente scherzo. Ehm... Andiamo dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte. Questo cos'è? È il pompa, però... È il pom... È una specie di... È lui il cestre. Ehm... Ehm... Chi è? Chi è il giallo? Noi... No, io sono il vecchio. Io ho una zona, eh. Apro la scala qui a destra. O sotto c'è anche la piera, eh. Non lo voglio io o no, Andrei? Andiamo sopra, andiamo sopra. Ci sono delle sciaruppe, quindi... tanto vale usarle. Io apro l'ambientazione molto più... C'è un mitra qua. Ah, bastarda! Amici, è pieno. Perché io vorrei un'arma bella? Ah, io ho preso il... Ah, qua ci sono tutte le stanze... Eh, ma quanto è aperto! Che bello! C'è uno di gente, eh. One shot, one kill, qui. Come si chiama? C'ha l'elmo, questa! C'ha l'elmo, bastarda! Che le armi qua? C'è la pistola a tre colpi... Tranquille, tranquille, tranquille. Ma... Ma li zombie? Sono tutti qua da me, ragazzi! Ah, è vero! Sono tutti qua da me! Sono tutti qua da me! Ah, giusto! Ehm... Fai vedere un attimino. Ah, aspetta che li attivo. Ecco perchè... Sarai in audio? No. Inter... No. Ok, vediamo se le si dimette. Chi è il vecchio di merda? Sono io! Ehm... Vieni... Vai a aprire qualcosa? Eh, non so dove siete che stavo... Ero pieno di zombie! Hai 3.000 punti, Marco! Porca vacca! Vai sotto, vai sotto! Sotto qua! Ah, però... Vieni a aprire, andiamo... C'è l'altra scala in casa! Qua! Qui ci sono le porte! Ah, qui c'è una porta rossa! Qua! 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 Dietro! Il manufatto sentinella bisogna ottenere! Pensa a cosa avrei potuto fare con la polchetta! Qua! 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 Guarda che pieno di gente! Non avessi la bocca secca! La sputerei sul fuocadallo! Vabbè! Non avessi la bocca secca! Che sono le stanze! Ah, che pieno di zombie! Quanti! C'è un coso! Una bomba atomica! Ma dai, che è stato! Non vedo una secca! Ah, c'abbiamo cos'è? Il one kill questo! Quest'arma sono morti tutti, sono morti! Io ho la bomba atomica! Allora, io... Scusate qua! Come se c'è una roba di dato che vedo? C'è un'arma qui in fondo al corridoio, amici, se vi interessa! C'è una mitraglietta! C'è un'altra pompa! Più bella! Prenderò quello anche io! Che stanze! Sono stanze d'albergo! Che è della nave, non d'albergo! Vabbè, è filo comunque! È fatta veramente... Sono le stanze di Alberto! 2100! C'è una porta da 1000 qua da aprire! Che cos'è questa? C'è una cassa! L'animazione rapida! L'avete presa voi? Non è adorabile! No! Ah, l'ho presa io! 2000 costa proprio perché va! Eh, l'ho presa io che almeno ho comprato! Sempre sento freddo! Andiamo avanti! Là c'è una porta da 1000! Vogliamo aprirlo! Ah, ce l'ho solo io! Vabbè li apro io! Vabbè li apro io! Voglio arrasciarla così! Eh no! Vabbè, non ce l'ho bene! Vabbè, non ce l'ho bene! No, vabbè! Aspettiamo! Adio! Ho soffocato le tue grida! Veramente è un'arma incredibile questa! Ah, c'è fuoco lì! C'è fuoco lì! Ehm... Non lo so perché mi sa che mi avete colpito qualcuno dei Vodis! Ah, è passato! Con troppi cuorelli! Adio! 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 Questa la ci penso io ragazzi! Doppi punti! Doppi punti! Doppi punti! Eh! Accoltellante! Accoltellante! No, non è il one kill! No, accoltellante che da più punti la accoltellante! Doppi punti! Doppi punti! Doppi punti! Doppi punti! Sono tanti adesso, si! Ah! Abbassato! Come il martelletto del giudice! Il perfetto del martello è lì! Vieni le spalle ogni volta! Vieni le spalle ogni volta! Vieni le spalle! Vieni le spalle! Noi siamo troppo con gli spalle! Devo dire un po'... Ma io sto scendo un'arma nuova più che altro! Avevo già guardato lì! Ma non è che c'era granché! Allora qua c'è la canzone! Ma c'è un sarcofago! Ah! La provo! Che paura! Ah è l'arma randomica! Ah è l'arma randomica! Copritemi! Copritemi! Ho preso il mitra... Eh vabbè! Meglio che l'altra! Guarda! Non è vero! Non so io! Devo cambiare arma! Devo raccar raccare! Cosa è questa? Oh è terribile il mitra! Ah! Io sono a terra! Ma quanti erano! Scusate! Guardate voi due! Guardate! Dove siete? Sono qua io! Siamo giù io! Tiro la granata! Rianimo! Non ho più colpio! Non ho più colpio! Non ho più colpio! Vai rianima! Ah sono tutto storto! Ah! Mi sa che muoio! Rianimo! Non muori! C'abbiamo il one kill! Ho preso anche la rianimazione veloce! Ho un mitra io adesso! Ho giocato tutti quanti! Eh! Usate la pistola che avevamo il one kill! Ah! A livello due! Ah! Prendo quest'arma qui! Posso? Sì! E' meglio così! Stai cercando di fare colpo su di media! Ok! Devo prendere le munizioni del pompa! Oltre di di bambi ha incensato! Questa una riesce! Aspetta che mi prendo un'altra arma! Permesso? Dove siete? Spero che in futuro armi come questa non diventino troppo! Ora occhio dietro! Eh! Arrivano! Eh! Aspetta che arrivano lì intorno! Eh! Non capisco niente! C'è molto casino sta mappa! Eh! C'è molto casino sta mappa! Non... Allora! Sotto! Sotto c'è del rosso! E' un talismano! Eh sì! C'è il blu! Spero aspetta! Sotto c'è il blu! Chi è il blu! Guarda quello è infiammato? Vi sono infiammato! Ma dai vi sono con terra! E' possibile! Bestia! Sono troppi! Anch'io sono terra! Non posso tipo usare l'abilità per... Uso il chakram! Morelli! Non avete l'abilità con la pu da usare? Eh sì! Posso lo con terra io! Mucchiarti così! Morelli! E' Franchino che dura 2 euro e 28 Adesso la leggiamo appena Arrivo eh Grazie Non sono mai capito stranamente ancora No neanche io Il problema è il problema Se il golf lo fate fisso di giovedì Di solito si Di solito si Apri un po' di ovvi Apro qua apro C'è un 6.000 io Dove sei qua? Dimi tutto un'occasione Mi vedi qua sopra Tutto dove? Qua dietro qua Non si vede Vabbè andava in cima Mi ero fatto in cima Che non ti si ravi Eh sono a terra Che moragia 3 Pieno di gente Pieno di gente Ah io ho fatto gente Non è possibile Troppa gente Vorrei non scappare Guarda te Sempre a terra Capito non ce l'hai reamando Dove vai? Dove hai te? Ho girato la granata Lì aspetta Posso usare l'abilità Aspetta Esprit Ok Sento moro Ma capito Mi devo tirare su Aia Aia E' tutto gente Come faccio? Eh va bene Sì vabbè ma ti buttano giù con due colpi Ma non è vero A me no Adesso sono a terra Cioè io ti ho alzato Mentre mi colpivano Corri Marco E' un po' 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 Che abilità Non posso usare l'abilità ragazzi Con la sua terra No non posso usarla T'ho premendo i tasti Non si usa l'abilità Con la sua terra Raffa finito i colpi Da per terra Allora E' morto Esprit Eh non potevo fare niente Ti tiro su gli Ezzer Tipo Tu mi sanno Puoi più rinascere Ah Ma non è stato tirato su Esprit È rinazzo così Eh no si Probabilmente aveva ancora una possibilità Ah perché abbiamo quattro vite Erano quelli Ah ok Ah ok E' che il pompa Cominciava a non servire più a niente Ah ok E' che figo qua Eh come si è dimenticato C'è un coltellaccio qua Questa rivina costa E' vero No il pompa Non serve più a niente Ragazzi Sì Ma non è possibile Che le spalle ogni volta Uff Sono ucciso C'è un coltellaccio Prende questo qua Prende il coltello Il tuo debito è saldato Aia Buorra Aia La bomba Vai Mi serve un altro pompa Non ho più le munizie Lo vado giù a prendere Questo qui cos'è? Non lo so L'ho preso anch'io Basamento temporale Vabbè Il potere l'unità che ho Io non c'è cosa fanno Eh neanche io l'ho letto prima L'ho cominciato a pulire Bello il suo mitra Carino Ah è vero che c'è Abbiamo gli elisirli Che cazzo Eh sì Aspetta Premo Questa vado più veloce Io ora ho animazione rapida Ok 2-5 punti Andate a prendere Metta via di più veloce Ah ne puoi scegliere uno dei quattro Una volta 2-5-2 Chi sta Chi sta Chi sta Sono veloce Sono veloce Sono veloce Sono veloce 3-4-5-6 Marco Ce li di a destra E cosa li devo attivare? Adesso si può aprire morelli 15-200 Adesso ti dà un'abilità Di qua si può aprire Ma il coltello te lo sostituisce al tuo? Con un goccezzo di limone O è un'arma Al prossimo danni Con un coltello o sostituisce? No è qualcosa È un buff tipo Non ho capito Eh sarà un buff al coltello allora Ah c'è quello grosso Prendiamolo tutti allora Ostia c'è quello grosso Azzo Come il fuoco Bastardi Usa l'abilità Bastardi Bastardi Eh ricordatevi che avete la ultima Io c'ho il bastone Mi ha avvisato giù quello grosso Mi ha avvisato giù quello grosso Sono fortissimo torre Figlio di Odino Cosa è carpettiere? Cosa ho preso? Cosa ho preso? Ah sto Ok Ho ucciso la Merkel Ho ucciso la Merkel ragazzi Ma noo Efficiente Sì 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 Non volevo Che dice Ma senti il fai Ma che cazzo hai dito? Dagli alla testa Guarda cosa resta Le municche Ah ma davvi ste tempo di casca di un'arma Dai il tempo Dammi il tempo Dammi il tempo Dammi il tempo Ma che cazzo Quanto ci vuoi? Sono veramente tante Questo è impazzito Eh sì Sì Però che il mitrino che non fa un cazzo di danno Mi dura un round di munizioni Ah Apri una porta qua Mi servono armi Vedete qua che avevo qua la porta Ah il coltello l'avete preso tu? L'ho preso L'ho preso Dove si fa qua? Le scale Espre tu il coltello l'hai preso? Sì l'ho preso Eh bisogna solo salire Questo non è il coltello qua Ah no Si è aperta la porta anche di qua L'ho già preso Io l'ho fatto il primo a prendere Sono già sopra Ah e avete anche voi allora Marco vieni Andi Spertina Marco Tu c'è un'arma eh C'è un lino Ah ma aspetta posso usare un altro Elisir Ma voglio usare anche il coltello E' un One kill E' la one kill quello Vai pistola Ma le spazi No coltello Ma non so le puttana Non ho più vita o no? Quello grosso Subita le botte Non è one kill E' anche lui E' no E' no Se non gli si faccia più danno perlomeno Felice di non aver sentito AIA Ma non era morto Come se è morto io E non vedo più niente Ehi sono a terra Mi tiri Varca miseria L'ho ucciso L'ho ucciso Anche le spalle Di te Marti Vieni qua Grazie Scusa sai che è troppo? Che mi dire che non puoi ammazzare i zombie Basta E' troppi colpi Troppi colpi per uccidere L'ho aperto ma Quanti colpibili devo dargli a uno zombie per ammazzarlo? Eeeh Non serve niente da dare i colpibili comunque Davy c'è una Grazie quelle Davy c'è Abbiamo anche il coltello potenziato E non serve niente comunque Vabbè a primo qua Bello ma guardate Il blu Eeeh Marco 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 Ah siamo Abbiamo aperto un altro con E anche C'è questo però Lorenz Grazie mille Lorenz Grazie Si Eeeh Non c'è un'arma? Ahia Le schelette qui sotto Le schelette Le schelette Le schelette Ok amici sto finendo un'arma eh Beh stiamo ad altri Dottor Eh dovete correre sempre Andemi 4v4 alla Alla lefford del subito Oddio sono fuori Devo correre Eh sarebbe fuori Bestia sono su Eh io Quanti sono? Oggi sono stato saltato Ma non è possibile Alla in mezzo a voi Sono morto io Non sono mai caduto qua Aspettate Che trito tutti Prendono anche fuoco Ma certo Perché no? Ok perfetto Si Ma i chakra non son bellissimi Comunque? E tirami il pene Aspetta che ho finito tutto qui Ah c'è il mostro di Locke Aaaaaaah Mi hanno incastrato Non vale Ah io sono morto Mark sei da solo Mark non morire Mark non morire Eh sicuro è morto Eh niente Eh ma mi hanno incastrato Non vale Eeeh Eh sono andato bene Non pensavo Mark hai detto io sono torro Ah beh riproviamoli Se l'ho capito Sì adesso sono torro Non l'ho fatto male direi Però che difficoltà Proviamo un'altra mappa Un'altra mappa? Come si? E non mi fa uscire Questa qua più che altro Era veramente un casino Ogni due secondi c'era un corridoio Non capivo niente Vabbè sì Già non mi so orientare ben in su Però a fare non c'era Perché noi teoricamente abbiamo fatto Caos Non c'è anche l'altro Non c'è anche l'altro Perché hai fatto classico? Eh lo so però quando c'è la scelta di persone c'è Per caos C'è storia caos e storia cazzi E storia cazzi C'è quella orde forse Non è quella magari Non lo so Nivello 4 Nivello 4 Nivello 4 Beh Nivello 5 Quasi 6 Ho preso Forte del Cos'è sta roba Io ho preso lo swordfish Aspetta la fine devi creare una classe E' cos'è un pesce se non lo star di valle E' una cosa dove si mette Gusto persistente Mmm che sapore Cos'è forte una locaforte che non ho visto? Ne abilità? Era una cosa beige Essendo ferma in posizione Già in un cerchio difensivo Che aumenta danni e corazza Per un certo momento di tempo La mia ulti qual'è aspetta? Ah queste non sono le scelte Sono le scelte che abbiamo nelle statue comunque In giro per la massa Ma spara forse è un cannone portatile per la massa In versatilità Ti capito? No Cos'hai detto? Che le quattro cose che abbiamo qua Non sono le quattro classi Sono le scelte che troviamo nella mappa Le specialità Se trovi la tua stuetta Per compri il iniziamento Infatti metterei Sbazio 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 In fretta No questa era buona Questa non mi piaceva Questo forse Sbazio 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 Usate il coltello adesso? Si coltello assolutamente Ah prendo un pompa qui Non è il pompa quello di prima Ah no ma non voglio Non è il massimo però Correte continuamente ragazzi Le aperture laterali da aprire qua c'è la posto Sono veramente gigante io Sono in massa Che paura Marco Per loro siamo solo un passaggio Ah si c'è stato veramente trovato Quello è un po' serio Ah no non la fa Eccoli eccoli sono tutti fuori dietro Yedda Eh si sono tutti Doppia coltellata muoia Stavamo ammattando Yedda Mi sembrava un rachitico Eh devi coltellare e andare indietro Usa pistola Apriamo Anche io Forse insolvendo gli amici e sconfiggendo i quali eri Guardi qua Io vi giuro che il vecchio mi sembra proprio uno zombie quando corro Nel casino Perché dovrebbe avere ragione Perché dovrebbe avere ragione E vabbè è diventato Stavamo a prendilo E pre... Ma starlo io C'è il coltellaccio qua eh Ma comunque non c'era bisogno in realtà E c'era lì Che fai la lasci? Sì eh no E che ho bisogno di punti Eh costa 3.000 costa Eh sì dobbiamo fare un po' di punti No no niente Ma scusa Non c'era la strada anche sopra? No mi sa che era chiuso No amici aspettate farmiamo un attimo Eh sì No voglio vedere se c'era... Venite su Venite su Ah sopra? Ok Rally Il coltello è come la France Il coltello è come la France E' come la France Eh qua c'è un pompa Amici io sono sotto da solo eh Eh vieni su 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 Eh vabbè ma sto facendo un botto di punti Eh vabbè ma sto facendo un botto di punti Eh sì Voi siete in 3 Devo pensare a voi Per 2 Oh buono Ah mi serve un'arma Io non lascio mara doppio Ho capito non lascio mara donna Beh sì perché hai preso il coltello per i due peri Dai me ne serve uno Uno zombie dov'è? Ma non prendi proprio il coltello No prendo lo shot Il coltello ti aumenta il danno del coltello Sì ma non me l'avevo mai dato prima Ma no che erano più forti I nemici Apro qua In avanti? No non andiamo Ok il coltello L'ho preso ragazzi Ma sono atterrito ma Sì Aspetta che tiro la gravata Aia Ehi Morelli Fa per me veloce Non posso muovermi mentre Buono Via 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 Ma non mi hai tirato su Ma non è vero Ma scusami Ma il carpentiere Bello Ho il martello di sotto Ho creato tutte le barriere In un colpo su Ma perché non ho più l'abilità di prima è vero Prima avevo l'abilità che a metà animazione ti avevo già tirato su Eh si può aprire anche sotto Volete andare sopra quindi? No andiamo sopra Ma non c'ho il coltello Non c'ho Andiamo sotto sopra Sopra Non so neanche le munizioni Eh manco io sono così finite Il cervello di Diego Il cervello di Diego? Chi è Diego? Tu Diego? Prendo sto pompa qui Andiamo qua 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 Eh sì Che bello il martello di torfo Questo Una buona difesa contro il via d'attacco Si può buttare giù il ponte Qua Piano di gente qui 1.5 Una tigre ragazzi L'uccisa Una tigre? Una tigre si L'uccisa subito Approfondatamente Occhio dietro Ne mancano non finita Vanno giù Perda Eh mi hanno chiuso sul post Ancora giù di corda Grazie Abbiamo 1 kill 1 kill Perfetto Abbiamo questo Non usate le armi Perchè? Eh 1 kill Perchè c'è il 1 kill Hai fatto sul mitrino delle balle Ok Ponte bonus Ponte bonus? Di che? Eh li ho presi da per terra Ok Devo guidarlo proprio Non c'è Eh sì Devo cambiare armi Ok Mi son preso questo Che mi velocizza Ok Voglio un'animazione rapida Ah ma che cazzo Ma qui c'è il pompabello Prendo anche questo E io lo preso Qua sotto c'ho delle scale Qua Dove sei qua? Aspetta voglio un'animazione rapida Che cosa stai facendo? Eh sto Eh no Sto riparando Riparate le barricate Cazzo E le controlli Perchè le controlli La schiena è controlla La sua barricata Eh l'ho preso Muizioni 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 al massimo Moro Sento dietro Vieni che sotto Ok Arrivano Che? Sto mitra è veramente terribile E' il pompa con lo piccolo L'ho preso Ah questo Si No questo non l'avevo preso Ci ho tirato una granata Sto stupido Ricordatevi Ricordatevi di elisira Massima potenza Ehi dio Ogni tanto Ricordatevi di quello I prossimi danni a corpo a corpo subito Gli zombie super stati prendono fuoco Ficco Ho visto un retrogusto di cacchio Cos'è che ha detto? Andiamo giù andiamo Vai Ci siete tutti? Marco Arrivano giù qualcosa eh Come hunger Qua c'è di qua Andiamo di lì Andiamo dove stanno Ma adesso per stare Vabbè vedete che bello qua sotto Oh Marco E' tutto colore uguale Provo Ti ho capito dove siete in questa cacolo cosa Si perchè non fa vedere Non capisco Vedo le frecce ma ho capito dove siete Ah questo è grosso Questo è grosso Dove dove? Vabbè Vabbè Che sapi Ah che paura Adesso mi fanno ingazzare eh Occhio ragazzi E sono per terra Niente Arrivo Ah che sono troppi La bomba Aia Mi hai giocato anche a me Ok tirami Questo dovrebbe tenere chiuso le tue ferite Fammi sapere se ti serve qualcosa di più Ok Ma quella bomba è morta anche Quello grosso No mi sa che era morto prima Io c'ho anche l'ulti Asma E' paura di Ezer Eh vedi Mi ha colpito e ha preso fuoco E qua si può scendere ancora Scendiamo? E certo Vediamo qui di qua allora Andiamo Cosa è successo? Ma metterli trasporto Cosa è successo? Cosa è successo? Metterli trasporto da sopra Eh vieni giù intanto Ma cosi Ma è sentita di trasporto Mi sa questa qua Ah Questa cosa qua è sentita di trasporto Che cacchio Non lo so Destra o sinistra? Che fai più Ce ne scevi? Ah no Doraemon Nooo Era Doraemon C'è la porta La tigre l'ho uccisa La tigre va sta nuovo Più tigri Più tigri Più tigri Eh solo tigri Troppe tigri Troppe tigri Oh Devo ricaricare bestia Anche io Rally Gatti è pieno Quante sono? E va via Mi incastro sempre E' arrivata una bomba nel Busem Sono perterrito Sono uccisa Lascia Musizioni Vito Boh Da che parte andiamo adesso? Ehm non lo so Qui a destra Non c'è un gatto Qua c'è una pistola magica Qua c'è roba Qua c'è roba Anche da aprire Ho preso una pistola Un revolver Qua è rimedio del mio qua Qua si va avanti Se non ne trovi C'è la cassa C'è la cassa C'è quello grosso ragazzi Correte Ragazzi sono bloccato Non posso venire da voi Arrivo Ehm non posso venire da voi Ehm non posso venire da voi ragazzi Ehm non posso venire da voi ragazzi Arrivo Ehm mi sa che cazzo troppo Pesco Pazzo Mi sta ricaricando la palma Arrivo Lieter Mi sto aiutando come posso E niente sono di nuovo a terra Mi hanno circondato Ehm che cazzo Oddio È la mia abilità Il materiale torre è bellissimo comunque Quello che uso io Io non ho però usato la mia abilità Dopo non l'ho presa usata la 1 Che abilità hai detto Lieter? Ehm È uno scettolo? No è tipo coltello E archivugio assieme Mi hanno detto proprio Io prendo la cassa Non so Ma che schife Che merda Che merda Prendetela voi se volete No Qui si può andare avanti Volevamo andare avanti qua Ah è spavita È spavita qua Ehm anche qua sotto No No Eh vabbè Vogliamo andare qui? Dobbiamo andare qui? Eh vabbè Vai Vai Non c'è Kino Ehm non c'è Kino Ehm non c'è Kino Cazzo Non c'è Kino Vai attivo l'abilità Adesso che non ci sono nemici scusa No Ho capito ma la Continua quando sei in pericolo Eh Ormai sarà bella che finita No no Sarà anche bella Sebastian Vabbè ma è semplicemente una Kino Scusa Ah qui c'è La trappa o la 1.500 Non sarà che devo spendere i soldi per le trappe Oh basta La trighe Eh ma devo cambiare arma Eh mi dobbiamo messo Kino io Ma io c'ho due pompa No porca Io c'ho due pompa Kino Non è vero Basta prenderli in testa La bomba qua Eh bubba è un shot E niente Aspetta arrivo Esprit Esprit Merda quanta gente C'è un kamikaze Arrivo Mauro E' un corpo un shot No non posso farlo E niente per salvarlo Ci penso io Aurelli 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 Gli azzard tirano sui Vado vado Tutti 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 Belli ciakram Eh non so Devo cambiare arma adesso E bere Cacchio Che spavento Sono troiato Ah ma che paura Aia ma quel cazzo Amici da me Cosa? Eh da me mi serve una manina Dove sei? Qua che sto scendendo Ma che paura Grazie Grazie del avvio 25 metri Grazie mille cari Grazie mille cari Se non è che ti cagare cittino E che meno Aioh Ok Non fatti fuori tutti Qua c'è Della situazione Da parare Dove morai li aprovisti tu quanto? Dove sei? Eh sono giù da basso Ma questa è la porta di prima Ah sai che mi sa di si Mi si può rompere No guarda ci siamo stati È il legendario grande oltre Scusi Grande oltre Corre Grande oltre Tanque del campione richiesto Qualche altra parte Sono io il campione Dov'è il campione? Io io Ma c'è del fuoco qui Non mi vedo Si Guarda che ci sono i simboli nordici Oh 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 Eh quanta gente Amici avrei bisogno di un aiuto Sono un attimo Ti aiuto a me Ti aiuto a me Aia Che f*** che buffo Sono tigri Occhio Londinese Divorato Da tigre morta Per ricarre Marco Ho sentito necrologio Per ricarlo Eh quanti? Sono a terra Mi sono sempre chiesto Come sarebbe stato Oh mio dio Quanta Tirò una granita Anche io Marco No, la pistola ce l'aveva quando era per terra Esprit cacchio, anche Marco Esprit sei l'ultima possibilità Morelli t'ho fatta, non l'ho fatta Erano troppi Morelli Amici, ma è difficile Però mi piace Erano troppi Morelli Beh, proviamo un'altra mano Però il martello di torno mi piace usare Ah, che fatica Esprit è la donna, Esprit Lo so di granate, però è sotto pressione Eh, vaffanculo Ti ha lasciati morire il pezzo di merda Io l'ho portato su, non ti tiravi su Grazie, Melton Sempre due anni per tirarti su, sempre Morelli Cioè, non so io Eh, effettivamente hai provato col martello a colpirà da distante Col click destro Sono a livello 8, mi ha dato salsa segreta Punti regalo e modi No, è che si può far saltarmi modi Si può colpire la via e col sinistro, il martello è mini Si può colpire la distanza No, magari c'ha la rama, cioè il fuoco secondario Tra virgolette Perché la pistola è feggio, hanno troppi zombie Abbiamo... Ah, cambiarla pistola dici? Eh, come si cambia proprio? Non posso cambiarla questa pistola, non ne ho C'è l'armeria, c'è Però non posso cambiarla di pistola Quindi non posso cambiarla ancora Gli smani è come se ciappano Forse posso personalizzarla? Tipo personalizzare le armi Magari le trovi già col mirino Ma non c'è niente sbloccato Eh, trovi determinate armi forse in giro Quelle che scegli Non vuole nulla No, bisogna sbagliare col livello anche specialmente Sì, no, perché puoi già metterle col mirino e tutto il resto Ma devi salire Guarda, questo qua c'è scritto cosa fa? No, non c'è scritto E magari effettivamente trovi le armi in giro senza mirino Senza niente Eh, ma in tutti gli zombie è stato... Eh, no, però infatti Ma qui adesso le puoi modificare In modo tale che le trovi già modificate Eh, cambia mappa Esportation Eh, sto pensando un'ottimo... Perché... Ci sono due mappe che ho fatto prima C'è la mappa quella... Storia etere Che non so cosa vuol dire però Mmm... Quella è se ha fatto il classico Eh, e quel chaos l'abbiamo fatto adesso È il classico Poi c'è storia etere Proviamo Storia etere è l'altra Cosa? Eh, ad credito Non scegliamo noi Eh, no Fate la sub e non la vedete No In questo canale Perché è vero E chi? Anche tutta roba Che sei in mezzo al play Non vediamo qui ci sta No, ancora non l'hanno tolge Sei sicuro? Perché vedo qui ci sta in questi giorni? Sì? Allora forse già... Sì, avevano detto A metà ottobre Ah, giusto essere di vero Sono... Cosa... chi siamo questi C'è un aviatore? Sono diverse... Ma io sono... Sono io un aviatore Sono diverse le classi Aspetto a vedere cosa sono le cose È vero? Cosa abbiamo? Devil Dog? Credo siano comunque le stesse robe Ah, c'è il dottore? Sterminatore? No, io voglio mettere... In mezzo di mezzo Faccio lo sterminatore Camminare... Ah, camminare è il giapponese Giustamente Faccio lo sterminatore Il camminare era quello dell'elettricità Sai che non mi sto ricordando Eh, sono giapponese e faccio il camminare Si Si, è quello dell'elettricità Camminare che sono giapponesi Quello biondo, no? Si Io scelgo la katana, dai Ok, dai Ho posito la katana Però in teoria sa... Come la katana? Come avete fatto? Eh... No, qua la cambi sopra... L'arma speciale c'è L'arma speciale c'è No, faccio lo sterminatore Ah, no, beh, ma io mi tengo lo scettro Ah, le desiste può cambiare con quelle desir Che fate voi? Faccio... Io sterminatore Marco? Io sono sterminatrice Ma anche tu? Non è vero Non è vero, non lo sei Da me dice sterminatrice Mi assicuro Ah, no, adesso mi dice David Dogg Ah, le desiste, le desiste prima Ma perché siamo che ti dice Te trasporti No, non l'ho Ah, forse si Sono David Dogg Ok, David Dogg Esprit Esprit, tu chi fai? Eh, di classe, dici? Lui fa la katana Il... Il cammin... Non cambia niente Vabbè, fai i camminari quindi Cioè, basta che modifico i cosi qua Capito, ma che facciamo i personaggi diversi Eh, ma ritengo anche se... Allora io faccio il doctor C'ho sotto un cannone Oh, metto questo qua Eh, ho preso la katana E poi, come cose qua, come potenziamenti Come le zirpe Io c'ho il Ragnarok Io c'ho il Ragnarok Io c'ho il Ragnarok Mi piace attivare Un movimento più rapido Quanto la modalità è attiva Ok Ti trasporti Non voglio... Non lo voglio Non lo voglio C'ho un super pugno C'ho il Ragnarok Eeeh Alzzatemi a che appoggiamento Nooo Faccio il doctor Faccio questo, faccio il terzo Vedete cos'erano poi Coppio la testa e... Poggiamento più lungo Vedete che me ne frega molto in realtà C'ho capito, voglio un petto un po' più lungo Però non c'ho anch'io Eh, capito Qui devo fare il cam in aria, quello qua Perfetto Fare coming out, eh Vai Sono pronto Vai, preparazione Perché non c'è scritto pronto? C'è la preparazione Eh sì E Twitch che è un bastardo Però c'entra Twitch No, per lui sta Per un chat cap Non possiamo facci niente Non ne ho più vista Giustamente Sì, cap Non ne ho più vista niente E' un bastardo E' che poi la roba della scossa ce l'ho io E quando ricarico faccio la scossa tutto intorno a me Davvero? Eh, devo prenderla dalle macchinette Va bene Grazie Chaff 10 mesi Grazie Sempre roba di merda Ma c'è... Siamo in un volto Bene cambio di programma Ha detto pene Ha detto pene Ha detto pene Pene per pene Bellissimo Ma io non vedo niente Mi sta caricando all'infinito Ma che parla espre? Sei tu? Non lo so No, aspetta No, è lassù Che è lassù Ma c'è un problema Marco C'è un grave problema Amici, sto per stangiare un pendo Ehm, dovete uscire Ah no, ok, niente Mi ha caricato un quarto d'ora dopo Perché potevo sparare ma non vediamo niente Pene per pene Anima Cerchiamo di restare Tutti quanti Con Riktofen 750 Il bel Riktofen Il bel Riktofen Qua non ce ne sono a parte Che sono, certo Aspetta ma sto guardando le persone dentro le caffi E' sopra, c'è sopra una porta 750 Facciamo un attimo Prendo un po' di punti Marco Madia Bello questo paesaggio E' un ponte Ma il ponte di Bra E' un ponte di Golden Gate Quale? Golden Gate Si Quindi siamo a San Fran Ma cos'è? Ma è Alcatraz? Ma questo è Alcatraz? Ah, siamo ad Alcatraz E vediamo come va Ah, signori Calmatevi per favore Colai, non muore mai Eh, lui eh Eh sì, le map sono belle Si vede che ci ha puntato un po' di più questo zombie Comunque Oddio però sono tre mappe comunque per favore eh La bomba! Ah, bella montare quella sola Ho preso la pistola mitra Pistola mitra Pistola mitra E' un pompa qui Dov'è? Io posso prendere Chi è? Chi si apre immagino Ah quello bello, dammelo a me Il mio prefe ormai questo Cosa? Pumpa E' dei condannati Eh, tu prefe Non devi pensi morto Non è vero Non è vero Si Il postino dice posta per te cosa vuole Il postino dice posta per te cosa vuole Il postino dice posta per te cosa vuole Cos'è? Lui E' sufficiente Come? E' un buco e io lo chiuderò Come? Maiae Maiae Almeno abbiamo delle armi Almeno abbiamo... Ma il mio personaggio è un porcello Eccolo il postino Eccolo il postino E' anche proprio uguale a te il personaggio Guarda Allora qui si apre sotto Quindi con mille Qua sopra anche mi sa No? No, non sa più niente E non qua sopra No, non sa più niente qua sopra Non lo rimettere Qua bisogna attivare l'energia Quindi... Si chiudiamo? Si chiudiamo Dai qui saranno mille Siamo io? Eh saranno mille Ho perso Che bel postino Aiae E' un bellissimo posto Per le feste Marco Mi hanno si parla Le feste di compleanno Amorelli Che bello No? Mitra Eeeh Guarda Che profumo che ci deve essere qui Eeeh 1300 posto 1300 Oh All'istante Eh allora usate la pistola Usa il mitrino io Eeeh Colpi la testa Solo colpi la testa Tiè Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Il postino Quanti punti ciò Amorelli Vedi? Devi ascoltarmi Marco Eeeh Gestivo la titolazione Non ho ancora visto Ah non c'è ancora la ulti Ma con un 2000 si apre Dove c'è la Marco E' tantissimo Cazzo Eh si Perché è così costoso Tanto E anche il denaro può salvarmi Ah giusto giusto Ehi tu Ehi tu Vieni qua C'è un potenziamento lì Ma che ci sono viste io oggi No 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 È che devo parlare di meno che mi si esplodono i punti Vabbè va Esatto Marco Magari prendi doppi punti Ecco E ho presi 16 E poi ci spremo il limone sopra come al solito Bravo E' un po' di sane anche 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 Amici che spinta che mi avete dato Ma che c'è una bella di marco Buona Caffetteria Caffetteria Siamo qua allora scusa Questo qua Che non mi fa prendere Mossa quest'arma Amici mi prendo un po' di Dove mi portate qua? Siamo qua per sempre stiamo Ma che ficco comunque Amici dobbiamo prendere tutti un'entrata però eh Scusa se vado via come succede Ah non posso Io ho tre entrate qui Dovete venire almeno uno Vedete che parte Marco E' qui Guardami Guardami Sì 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 Adì No Sì perché vedi mi arrivano da dietro Da di lato E' con noi Marco E' qua Ma che cosa vengo a fare? Lei non c'è niente No perché arrivano anche da qua E ci sono portate Ok stanno entrando qua Eh lo so ma fare in 3 è una forza Non ha senso Ma siamo in un posto sicuro semplicemente No Ho voluto nel cazzimo Ho detto non morire Forca Tutto All together Marco Ah ho capito TG5 pronto E' come c'è la mia ulti eh Andiamo avanti Voglio portare qua i zombie Voglio portare qua i zombie Voglio far mangiare i cane E' oltre che gli fanno C'è un zombie Ci sono Non vengono qui Non vengono qui Non vengono qui Tittone Ma tanto loro è un mono subito Ah ok all'opera spiegato Ci sono tre cani in tutta la mappa Bisogna uccidere i zombie vicino a lui per sfamarlo E appena li ha completato i treb Ci dà un anno speciale Cazzo Faciamolo allora Andiamo Porta di qua Non uccidetele Non uccidetele Non uccidetele Per due Eh ma questo è grosso però Il grosso pagate Avete sentito cosa dico io Dico lai Non muore No dice non smette mai di sparare No il grosso non lo prende Non mi piace Ok lo sta mangiando Ok lo sta mangiando Correte Correte È proprio quello grosso Ci penso io a quello grosso Amici sono bloccato Eh arrivo ma Oh bella Eh troppa gente c'era No i mazzati Mi ha dato una chiave il grosso E' nato il giro del cane E' nato il giro del cane E' nato perfetto Beh si è nato morelli Quanto misero E' sempre gradito Ma la chiave Ah l'ho preso ok Non ho più le mu... Il cane ha perso la chiave Il cane è sfamato quindi Credo lì si è andato via Quindi andiamo... Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo Di qua eh Una bella casetta putrefatta Ehm andiamo di qua Venite qua venite qua Si C'è un... questa roba Non lo so non succede un grazie Parla come me dopo la metteria La caffettiera Se fucile eh E' un mitra Eh beh vedete io in giro Ma proprio XGKG C'è un nuovo pizzi E' già detto Possiamo apprendere Enrico E' aperto E' aperto E' aperto Ma diente E' come il te Alle uova di peschierina Che schifo Ma che schifo Che bleee Magari può amato Ma chi si crede Ha accettato l'invito Maria Come? All'istante All'istante Ma ho accettato Marco Ha accettato l'invito Qua c'era il postino Non si vede che... Ah, succede! L'ho robito io! Marco, ammazzali però! Veloci! Velocemente di un picco! Cosa vuoi dire, Marco? Andiamo su? Andiamo volendo andare sopra? Ah, togliamo indietro qua! Ma devi attivare l'energia No, togliamo indietro là, comunque, con mille Ehm... Ma si... Apriamo lo shortcut, tanto meno Epic Nox, due mesi, grazie mille Epic Nox Ben tornato Grazie, grazie Ah, mi si bloccato il gioco Come sentiva l'energia Occhio Ehm... Sì, qua sono proprio tornati Ah! Bastardo, venite via di lì Eh, sono troppi Ah, c'è la cassa... Qua c'è la cassa... Delle armi Andate via, andate! Oh dai! Ma che macchina cazzo? Mi venite a tirare su, mi venite Eh, sono un po' incasinato Oh, sei belli, arrivo! Non è arrivato fino qua Ma che cazzo? Vabbè, almeno qui è libero Ah, sto arrivando Ok Ma che vuole carricare? Questa è una cosa misteriosa Eh, anche io la voglio usare Vediamo, vediamo, vediamo Oh, che schifo! Che culo! Non siamo intrapolati, Dem6 Non siamo solo confinati Controlla la nostra libertà Eh, io non ho più munizione Ma anche io, eh! Ma papazzullo! Metti a posta la pistola Eh beh, certo Ma che lento hai caricato Morelli Beh, questo è un tipo di un chiuso Cazzo, io sono un po' in questo Ah, io tu! Non è solo per terra Aia, bestia, ma è incastrato Eh, insomma, l'ha fanculato Occhio Eh, almeno ce l'ho anche quando sono per terra Oh, ma guardi! Non vedo un... Vinci Eh, niente L'ulti, l'ulti Eh, sprit Come si fa l'ulti? Raccoon Non ce l'ho Efficiente Non sapevo Eh, niente Eh, niente Potevano far lanciare le granate a terra però, scusa eh Intanto sei a terra te la prendi la lancia Eh, ci ho provato io L'abbiamo provato, amici È divertente È bello, è figo È difficile È un classico quello Oh, che fatica Alt F sasso Ah, bisognava... Alt F sasso Mi incastrino un po' su di merda Eh, no, l'unico problema è che veramente molte volte ti incastrano per quello che ti buttano giù Però dai, carino, carino Dovevano trovare un giotondo, secondo me Dovevano un po' svolglierli Merita Merita, merita X1, 9 Anzi, per me non dobbiamo rimanere insieme, secondo me Troppe volte Cioè, troppo uniti Perché ci castiamo fra di noi anche, secondo me Ma te... Non è possibile Mi bastava uno zombie sale di livello Uno Laboratorio Perché c'è il laboratorio Perché c'è il laboratorio Perché c'ho 109 nebulum plasma Che minchia servono Guarda te Per esempio casuale è una possibilità di trovare un talismano Ah, ok, sono tipo gli opening packs quindi Dov'è? Ah E se vai sul laboratorio Puoi fare le mystery Ok E quanti punti ho? Io 109 ne ho Sai che ce ne abbiamo tutti così? Allora io faccio 75 E faccio pa Parabarapapa 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 Parabarapara Dobbiamo anche... Imparare a usare... Eh, il viola è il viola è il bianco! Il lisire e tutto Che bello Leggendario, leggendario è comunque... Raro, amuleto maggiore del terzo cerchio mi ha dato No, meditengo, meditengo Io non so cosa fanno a meditengo Finiscita la festa, finanziamento extra Chi tiene i punti Ok Ne apro uno anche da 30 Aspetta, quindi adesso io ho i legger... Leggendari, eccole qua Le armi non consumano munizioni? Eh, capì Eh, ottimo, cazzo Per quanto? 30 secondi però Ah, ok E beh, è chiaro, non è che per sempre No, perché gli altri duravano 5 minuti Ah, un... Malato, un talismano epico Ottimo Sembra grandiosi La metà viene più l'oggettiva Allora, togliamone uno di questo, diamone CTRL-Z Allora, toglierei questo E metterei... Poco a volontà Poi toglierei... Questo Sì Questo Metterei... Questo Poi uno comune Cos'è? Gli zombie tignano da più di 10 secondi Beh, non è mai niente questo qua, eh Ma poi non ho capito, si consumano, quindi... No, no, questo è sempre in partita È perché c'è... No, nel talismano Ah, nel talismano si Eh, ma che cazzo Sono i più rari da prendere Aumentare lo scudo Va bene, lo tengo Facciamo una troppa di impact Ho un 4-30 punti Vai, fai il... Ah, troppo veloce, mi stacco tutto Se consigli di cambiare il wending, non posso Questa è sbloccata Cos'è l'ancione? Legendario L'ancione, legendario È epico È il contrario questo gioco Ma che palla Uniscite la festa, si chiama! Cosa... Non posso cambiare con quella pistola Vediamo un po' Ma non posso solo cambiarla Eh, i poteri è molto Strange Brigade Ah, è l'L24 disponibile Porca puttana È importantino Ho trovato questa Ah, io ho trovato anche Uniscite alla festa Tutti i giocatori e gli spettatori entrano in gioco Ah, ok, dabbè Però ho trovato questo Ah! È un Elisir Che dice Tutti i giocatori e gli spettatori entrano in gioco immediatamente Ma l'ho appena detto Mi vede il sussito Eh, tu la fanculo a morermi Luz Luz Trasforma gli alleati In alleati zombie vicini Massimo due Beh, dai Beh Ho messo un blu zombie Ma posso dai Ma conta quello grande anche? Non credo Beh, magari Credo che vengono considerati quelli piccoli e basta Eh, magari però conta Ma che Penso che abbiano altri nomi Non si cambiano zombie Perché zombie Penso sia quelli basi Questi poteri Time to play the game Vincendoli Ma in realtà Ma in realtà Me davo non dispiace perché Lo rende più rigiocabile così Eh, per i puristi dello zombie magari un po' può dar fastidio effettivamente Sì Ma anche la Tutta la mappa quella della nave Con anche i vestiti così Ricordava molto bacio L'arena è più facile Eh Tu da boh che cazzo non capisci C'è l'hai Aspetta, aspetta Non scrivi 20 volte Scrivi Dimmi Perché se dice arena Io non capisco Perché non so cosa intendi per arena Perché non c'è nessun tipo di Perché si chiama arena Quindi Specifichiamo No, un posto dove Arrivano gli avviatori Perfetto 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 Grazie mille Ah ok, quella di prima Era carina infidente quella D'avviatore lì Sì, era bellina quella Era proprio quella Strange Brigade Credo tu esce un DLC Sense Brigade Con nuova campagna Sì? Sì Un nuovo pezzo di campagna Mi sembra che ha vinto qualcuno Con nuovi sapori Vabbè Niente, io chiudo il gioco Vabbè Facciamo un po' di Blackout così al ruolo Ma che cazzo dobbiamo tutti Però E tranquillo Morelli E dovevo allenarci anche Sono deficiente Bastardo Non è possibile Mai Mai Mario Accademia Comunque Mai Ci vediamo stasse Ciao Bellini Ciao Bellini A stasera Con... non lo so Dove ancora messarci E... ci penserò E... stai zitto Non mi rompere i coglioni Testa di cazzo Sei più tranquillo Morelli Ehm... 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 Ehm...